L'ultimo lavoro che ho fatto è lavorare come concept storyboard artist per Luca Guagnino, per l'ultimo film uscito al cinema Call Me By Your Name. È stata una bellissima esperienza di lavoro interna post-produzione. Il film è candidato oltretutto a quattro premi Oscar, quindi incrociamo le dita. Attualmente sto lavorando a un videogioco di carte online, una produzione di una casa indie, tematica fantasy. Il gioco si prepone di rivaleggiare con i più grandi titoli dello stesso genere, come Gwent, Magic o Airston, che sono i titoli più in bocca adesso. Sono circa sei mesi che sono impegnato in questo progetto come lead artist a capo di un'equipe creativa veramente efficiente, quindi anche qui speriamo bene. Uno dei miei sogni del cassetto è lavorare per Guglielmo e il toro, come concept o storyboard artist, anche qui. Penso che fare le grafiche concettuali di mostri come i kaiju, piuttosto che dei robottoni di Pacific Rim, o, non so, per qualsiasi dei suoi progetti, da Hellboy al labirinto del famo, insomma, serve un'esperienza incredibile. In ambito videoludico, invece, mi piacerebbe molto avere la possibilità di entrare nel team creativo di case importantissime, come un autidog, o from software.